E allora, tanti argomenti un po' trascurati sull'altare ovviamente di tante vicende importanti, ma ovviamente anche l'economia lo è e in questo momento appunto è un pochino in secondo piano. Allora cerchiamo di capire qual è il quadro macroeconomico e microeconomico con il Rettore dell'Università Niccolò Cusano, il Professor Fabio Fortuna. Ben ritrovato e grazie per questo collegamento in diretta. Grazie a lei dell'invito, come sempre. Allora Rettore, le bollette oggi sono la prima notizia di tutti i siti che si occupano di informazione economica. C'è da festeggiare o c'è da essere comunque cauti rispetto a questa notizia? Beh, è una bella notizia, un ribasso consistente, è un po' a metà strada tra il 40% annunciato da Giorgetti e il 33% annunciato da Nonis, ma certamente non compensa, come diceva il servizio, e si, compensa solo parzialmente perché il rialzo del gas è stato violento, è arrivato a oltre 300 euro nel corso dell'estate e adesso è tra i 50 e i 60. Quindi ci sarà ancora qualche buona notizia nel prossimo mese, nei prossimi mesi, se il gas si tiene su queste quotazioni e speriamo che ciò avvenga. Indubbiamente il fatto che il costo delle risorse energetiche stia calando aiuta le famiglie, ma aiuta anche le imprese, non dimentichiamolo perché le imprese sono operatori fondamentali anche per il benessere delle famiglie, quindi una prospettiva di miglioramento della crisi energetica ci aiuterà senz'altro. Aiuta anche sul fronte dell'inflazione questa diminuzione delle tariffe, del prezzo delle bollette? Aiuta anche sul fronte dell'inflazione, l'abbiamo visto, da 11,6 siamo passati al 10,1 proprio per effetto di un calo dell'11% del peso dei costi energetici sul tasso di inflazione mensile e quindi è un'ottima notizia anche in termini di inflazione. L'inflazione tenderà a ridursi, certamente ci vorrà un po' di tempo. Gli italiani devono avere ancora pazienza, ne hanno tanta. Nel momento di difficoltà emerge sempre questa ferrea volontà degli italiani di rimediare e siamo sempre più brillanti nelle riprese, anche in questo caso. Di pazienza ce ne vuole tanta anche perché da una parte c'è l'inflazione e dall'altra parte le politiche delle banche centrali per quanto riguarda i tassi. A noi giungono delle mail e degli interventi a volte dei telespettatori e radioascoltatori in merito proprio ai loro mutui che sono aumentati anche di 200-250 euro. Che ne pensa di questa situazione? Hanno ragione. La BCE è intervenuta anche ieri con un rialzo dello 0,50 previsto nelle attese. La comunicazione della Lagarde è stata meno disastrosa. Questa è la terminologia adatta perché la Lagarde purtroppo non brilla, non spicca per capacità comunicative, perché ha anche detto che il 16 marzo ci sarà un nuovo rialzo dello 0,50. A prescindere dal fatto che questo è in contrasto con ciò che ha detto fino a pochi giorni fa, decideremo volta per volta, ma non era il caso di annunciare lo 0,50 anche per marzo. E poi nel corso della stessa riunione però e della conferenza stampa ha un po' riequilibrato facendo capire che c'è in prospettiva un rallentamento di questi aumenti dei tassi. Per cui i mercati hanno reagito bene ieri proprio in funzione di questo elemento. Però la Lagarde purtroppo, uso un'espressione un po' forte, meno parla è meglio. Grazie del contributo rettore al nostro Tg e buona giornata. Buona giornata a voi.